Pada ciao, Rico! Oh! Pada ciao, Chip! Sto cercando di fare uno shaker con questo tubo, ma mi servono più zampe! Io ho bisogno di aiuto per il mio flauto di pan. Ascolta, le lunghezze differenti del bambucre hanno note musicali diverse. Wow! Il tuo flauto di pan suona benissimo! Grazie, Chip! È solo che non riesco a tenere i pezzi di bambù insieme. Continuano a rotolare via. Ho provato ad incollarli fra loro, ma non rimangono attaccati. Legarli è quasi impossibile con solo due zampe. Ti posso aiutare io! Tutti hanno i tubicini e io li leggo insieme con questo sfago. Ecco! Grandioso! Grazie, Chip! Adesso ti do una mano a finire il tuo shaker. Tu tieni il pezzo di carta sopra il bordo del tubo. E io lo sistemo con l'elastico per capelli. Grazie, Nico! Sei il migliore! Ora possiamo suonare i nostri strumenti musicali e intrattenere le piccole bestie ridolose. Grazie! 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 Grazie!